video games parte alla pelota di milano in questa domenica uggiosa abbiamo terminato il primo torneo che è quello di dragon ball raging blast sono qui con i tre vincitori e partendo dal terzo che si chiama ares il quale prego di raggiungere la postazione di premiazione allora ti voglio chiedere due cose principalmente come è andato questo torneo molto veloce è stato bello e purtroppo ho perso contro il campione il terzo turno però mi sono divertito senti cosa pensi della pelota un bel posto grande è stato organizzato bene grazie infinita allora per te il videogioco naruto ultimate ninja storm per playstation 3 un cofanetto speciale di fallout 3 e un bellissimo e comodissimo zainetto playstation 2 targato ai toy grazie mille ares so che ti rivedremo molto presto in tornei tipo quello di rock band e passiamo al secondo classificato che si chiama tommaso ciao vieni da meda milano vieni da milano allora come è stato questo torneo per te bello bello stato come ne ho mai provato questo gioco bello bello molto bene un novizio di dragon ball che però è riuscito ad arrivare secondo e per te abbiamo un videogioco nintendo ds uno zainetto ai toy playstation 2 e un cofanetto speciale di fallout 3 grazie mille buon rientro a casa eccolo qua il primo in assoluto il tonic francesco mi chiamo fra dante in alias e vieni da da varese da varese fino a milano per conquistare dragon ball raging blast sei venuto a giocare altri tornei no la prima volta che faccio il torneo qua la pelota è molto divertente stra bello ti vedremo in qualche altro gioco penso proprio di sì tipo non lo so mi piacerebbe takken sei ecco molto bene allora magari lo rivedremo per te un videogioco dragon ball dragon ball proprio quello che hai appena dominato un cofanetto speciale di fallout 3 poi un set di carte di ion e un zainetto playstation 2 targato ai toy grazie mille per aver partecipato al torneo tantissimi tornei ancora ci aspettano come le presentazioni qui oggi in questa domenica alla pelota si sta svolgendo il torneo di rock band 2 in una modalità tutta particolare video games party il divertimento continua